Oggi ragazzi siamo sulla mappa dei Lucky Block Guardate qua tutti i miei amici Allora c'è Gabri, Fede, Angela Fredda Ciao ragazzi, ciao Dai, per favore, non iniziamo così Perché sennò poi dopo sapete come finisce Io vi banno tutti Allora, quindi iniziamo, forza E beh, allora, chi arriva alla fine vince Semplice, semplice, avete capito tutti cosa è successo Ehm, vieni da proprio Eh sì, bene, iniziamo Che è successo? Allora, raga, io non so se sto laggando Però non mi sta spaccando manco il Lucky Block Eh, mi raccomando Mi raccomando, parliamo bene, per favore Eh, nissi, sono intrappolato nella Sandstone Eh, tu esci dalla Sandstone Allora, io, cioè Qua ragazzi sta succedendo un casino Mamma mia, la musica, devo abbassare Abbiamo iniziato già bene, cioè Sì, abbiamo iniziato benissimo Io sono già arrabbiato, pensate un po', quindi evitate Ah, e cos'è? Sono morto Eh, uno zombie gigante Ma Eh, è pure uno slime gigante Allora Questo zombie non mi fa niente, vero? Oddio Dai, sono caduto di nuovo No, sono caduto anche io, Dennis Eh, allora cerchiamo di arrivare fino alla fine Di completare questo Lucky Block Vabbè, io uso questo perché, cioè, sinceramente Adesso non è che sto qua a far cose Cioè, capito? Cos'è che c'è qua? Vediamo? Dentro la cesta? Non c'è niente, perfetto A parte un po' di armatura che prenderò E anche le mele perché, cioè, ovviamente servono sempre Io mi metto l'armatura, ok So, è perché serve, no? Ok, perfetto Eh, certo Sta laggando tutto Però, mi raccomando ragazzi Parliamo bene Non parliamo tutti Sopra uno l'altro Perché se no poi dopo non si capisce niente Io non riesco ad arrivare fin là Come faccio ad arrivare? No, che manco io No, non riesco E beh, ma, allora Niente Nuova, nuova cosa Prendiamo dei blocchi in creativa Perché se no, ragazzi, da casa non possiamo, no? Cioè, ci servono dei blocchi Se no, è tipo Io prendo dei Cobblestone, va bene? Quindi, appunto, questi blocchi ci servono Perché così almeno riusciamo a collegare i ponti, eh? Che ne dite voi, Degosiani? Cosa, cosa? Cosa è successo, Fede? Cos'è ovunque Ci sono scheletri ovunque E meno male che si capisce molto No, sono caduta di sotto Allora Eh Sì, sei caduta di sotto Mi fa piacere Perché vinco io Melle, 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 melle No No, sinceramente per il momento Sono io con le chiamate No Un vantaggio È più Ah Ah, grazie per averlo detto Adesso devi aspettarci Perché se no vai troppo avanti Non va bene Dovete esserci tutti nel video Eh, perfetto No, detto fatto Detto fatto Bravo Allora Che bello Che bello Oh Bello, sì Vai No, raga È bello Gian Giuberto II È Gian Giuberto II Sì Quello puoi dirlo Allora Fede Allora, Fede Per favore Non fare versi Ok Perché tu a volte fai Tipo Ma Mi Cioè Cosa sei Sei tipo Un'oca giuliva No, vabbè, scherzo Un'oca giuliva Boh, non lo so Me lo dice qualcuno Ci sono i cani fuori che abbaiano Vai, questo video è perfetto Come il mio solito, no? Cioè, come il mio solito Non può non succedere qualcosa Nei nostri video, vero? Se vuoi dire qualcosa Puoi dirlo Però deve essere qualcosa inerente Questo coniglio ha rotto le scatole Gabri è morto Perfetto Jesus Gabri è caduto di nuovo di sotto Secondo me Gabri è mutato Però è stato molto bravo Che sei mutato Bravo Gabri Bravo Gabri Perché se no prima Esatto, esatto Posso uscire? No Che è successo? Eh, vabbè Creeper, aiuto Una strega Un mini Gabri Un mini Gabri Come? Un mini Gabri Un mini Gabri Davvero Cioè, un Gabri Un più piccolo Spawnato Mi dici Ma vabbè Sono le taglie Dai, allora Non parliamo tutti insieme Perché c'è Gabri Che dice Madonna C'è Angelo Che dice Tutto così, no? C'è 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 Sono morto di nuovo Ma stiamo scherzando Ma che stiamo scherzando Il tuo coso In teoria si senta solo E infatti Gabri Oh, no, c'è una strega Fai schifo Vai via No, no, non me la fai pagare No, no Ma scendo io adesso Ormai ragazzi ho questo conflitto con Denis Che Però per tutto il resto del video No, no, no Ho usato a uccidermi A me Cioè Oddio, no, come facciamo a uscire? Sì, a uscire Sempre, ok A scendere In che senso Gabri? Eh, perché Ok Ah, ok, ok Perché qua ci sono le cose Vediamo Eh, sì Vabbè, bravo che hai fatto spawn point Gabri, bravo Pff È un parkour di Lucky Block È proprio bello Sì, esatto Angelo, è morto Beh, ma perché Allora io ho messo Cosa sta succedendo Allora, non tippatevi, ok Tippatevi poco Perché se no poi Perché di nuovo spawno qua Santo Gian Giuberto II Allora Dunisiani da casa Allora Gian Giuberto Ditemelo Voi lo odiate? Cioè Io lo odio tanto Giuberto Cioè Allora Se esiste un Gian Giuberto Nella vita reale Io non lo odio Però odio il nostro Gian Giuberto Che io conosco, ok Io lo odio Gian Giuberto Allora Io ho impostato il coso Adesso Adesso proviamo Perché sono caduto di nuovo Pensate un po' Quanto sono bravo A fare i parkour Mamma mia Respawn Bene Sono respawnato Sono respawnato Sì ma non è possibile Non è possibile Di nuovo Ma perché Cioè io veramente Io Oh Santo Gian Giuberto No 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 Fede va tutto bene Intanto Fede Come al solito Ha i rossi nel microfono Ha Le tarantone nel microfono Avete presente Che Fanno tutte cose strane Ok Io quando sono arrivato qua Che aspetto Io pure Dove Eh sì Aspettate Cioè Vedo Raga io sono bloccato Adesso No 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 Sei bloccato E beh pensa un po' Che io sto morendo Come al solito Eh boh Non si sa Io Il vero è che io Ho disattivato No La chat Per le altre cose Blocchi Blocchi Ok Angelo cosa stai facendo Mi sono dovuto mettere Dei blocchi No Stai parlando Sopra di me Ah sorry Volevo Meno male Allora Ci vuole tanta pazienza Con voi Comunque Cioè Ah Eh Eh Devi essere Viero Eh beh Eh beh Ok Allora Ok Sono arrivato al punto dell'acqua Al punto dell'acqua Dove è Gabriele Mi provo Quanto sei competitivo Puoi aspettare Ma infatti Gabriele sei noioso Ah sei già al punto dell'acqua Allora aspettaci là Gabriele Aspettaci là Perché Perché Ci devi essere anche tu nel video Sennò poi dopo sei sempre Cioè avanti E cioè Perché pazze Pi-pippole proprio Gabriele Questo che sto dicendo Ridicolo Ridicolo Eh Aiuto cosa succede No Non va Vabbè Io uso questo Non mi interessa Se vabbè ragazzi Questo oggi Veramente Sì Che schifo Questo oggi Oggi Proprio Il lessico È aumentato In una maniera incredibile Sì Poi proprio Una bella giornata Oggi Dall'inizio Proprio Mamma mia Sì Perché dovete sapere Che oggi ho avuto La video lezione D'inglese Che è stata molto bella E divertente Tipo immaginate Se vede la mia prof D'inglese Questo video Aiuto È meglio di no Mamma mia Scandula Cosa sta dicendo Non lo sa Scandula Eh boh Non si sa Così Così È cambiato tutto Su minecraft E qua No Cioè qua Nella 1.12 Siamo Eh C'è un grande zombie Non si sa Cosa sta succedendo Cioè Scusa io sono l'ultimo Ma io mo mi metto a piangere No Non piangere No ma bisogna rompere il lato Che tocco in acqua Eh infatti È difficilissima sta cosa Cos'è Evil potion Non voglio devil potion io No raga È troppo difficile sta roba Perché poi dopo devi Cioè impossibile Questa cosa Allora Fede Tu ci sei Qua All'acqua Ci sei? Eh Pando Ok ok Gabri tu ci sei all'acqua Sì ci sono Ok Angelo Sì ci sono adesso Ok 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 bravi Allora E devo vedere se Insomma come Come faccio a prendere le cose Ok ci sono delle enderpearl Ci sono delle enderpearl Ok Aiuto sto morendo Sto morendo No ti prego 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 Un cuore Un cuore Aiuto È difficilissima questa cosa Perché cioè Devi respirare sott'acqua È impossibile Se non hai La funzione È una rottura Di pollo Esatto È una rottura Di scatole Immensamente grossa Perché Che che ha detto adesso Mannaglia? Chi è stato il genio? Ho detto ma No è stato angelo Secondo me Non è vero Non è vero È stato angelo Vero? Sei stato tu? No non sono stato io No perché devo capire Chi è sgridare Ma non sono stato io Vabbè se non sei stato tu ti credo Però io ho sentito un mannaio Forse sono stato io E forse non mi dovrebbe credere Però Cioè nel senso Ah Eccolo qua Eccolo qua Che il pesce è sciagallo Sei il pesce Stai zitto Allora Allora se qualcun altro Dice una mannaia Nel video Che cos'è che faccio Adesso vi spiego chiaramente Allora Aspetta che devo Devo capire cos'è che faccio Perché Devo capire Allora Avete presente i lucky block? Prima di tutto Ve li faccio ingoiare Ve li faccio passare Dall'altra parte Gian Giuberto II Ingiambarcio Ok E poi urlo Urlo come La matrioska Che non so cosa sia Però Urlo Oddio Allora Spam point No allora Io lo spam point Lo metto qua ragazzi Per tutti quanti E ragazzi Ho vinto Sono troppo forte No Angelo Allora Porca miseria Oh mio dio Che cosa Allora Perché Perché Allora Io ho detto di essere poco competitivi Tu Che cos'è che fai Vai avanti Senza dire niente a nessuno Oh ma che palle Che siete Cioè dai Solo la vittoria Pensate Cioè fate schifo Adesso vado a vincere anch'io Non mi devo vincere Che per No Non è Allora Esatto È importante partecipare E soprattutto divertirsi Tu ti sei divertito Angelo Eh Troppo Quindi non ti sei divertito No Mi sono divertito Ok allora Allora vedi Questo è l'importante Perché vuol dire Che hai raggiunto Già il tuo obiettivo Cioè Divertirsi No Angelo Eh ma è giusto Cioè certo Certo Giustamente Io mi sono divertito Ok Ok bene Allora stai dito perché sennò ti vengo Questa ragazzi È una vendetta Per i panni di Danny Perché naturalmente È una vendetta A favore Gian Giuberto No ti prego Dai Che cattivo Piango e svengo Vabbè però Qua ho le cose Ah ma io anche le mele d'oro Cos'era Cos'era No Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Vai a vincere Denis Vabbè Dennis muoviti Allora fermi tutti Fermi tutti Chi è stato Ah quella persona Molto intelligente Che ha fatto Un suono di tastiera Che porca A miseria Era tipo Cosino Chi è stato Gabri Chi è stato Dimmi un po' Andiamo all'arena E Adesso Combattiamo tutti Ma io non ho niente Ma io non ho niente Come fate ad avere tutte le armature in diamante Eh no 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 Qua Tu sei antisportivo Angelo Fai schifo Non farai più parte dei video di Dunice Basta E Gabri Gabri Devo pensarci Ok Vabbè Comunque Visto che abbiamo finito Questa bellissima mappa Direi di concluderla Direi di concluderla Sì ragazzi E' stato bellissimo E' stato bello Dite Datemi un feedback A voi è piaciuta questa mappa Ok bravo Gabri Ancora questa tastiera Oh ma Oh santo Gian Giuberto Ancora No va bene No io Io li banno tutti Io li banno tutti Adesso Adesso chi è che ha Allora ragazzi Grazie per aver guardato questo video Io direi Che questo video Possa concludersi qua Prima di tutto Ban Angela Freda Ban Fai Luciene E ban Gabri Les Ok Ciao ciao Gabri E quindi Dunice è rimasto senza amici Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao